Succedendo qualcosa di incredibile nella community di Fall Guys, infatti molti utenti si sono lamentati del team giallo nei giochi di squadra. Una petizione partita da Reddit è stata già firmata da migliaia di utenti, ma non finisce qui. Ma perché è partito tutto? Perché molti giocatori ritengono il team giallo. Lasciamo stare adesso. Comunque, benvenuti a tutti in questa nuova live dedicata al gioco più difficile della storia. Ma inventato dal genere umano. Sto parlando di Fall Guys. Uno dei giochi più difficili che esiste in questo mondo. E noi ne siamo a conoscenza di questo fatto. Trevi. Questo è uno dei giochi più difficili che il mondo abbia mai creato. Io non ho vinto neanche una volta. Neanche una volta sono riuscito ad aggiudicarmi quella preziosa e succulenta vittoria che tutti ambiscono. Neanche una singola volta. Non sono partito ripetutamente. Partita dopo partita. Ok, però vorrei fare un attimo una cosa. Devo fare l'accesso al mio account. Devo un attimo fare la disconnessione. Provate l'accesso. Provate l'accesso. Ho messo quel foglio. Dove l'ho messo quel po' assurdo. Dove l'ho messo? Mi si peccano qua. Dove l'accesso. Ok Allora adesso un attimo vedere le cose Non voglio fare il giusto questo Ok Ok Possiamo partire Possiamo partire Ok Il gioco delle porte Questo gioco già lo conosco È easy Non capisco però perché Non mette la categoria Senza categoria Ok Oh madonna come ci assemblano tutti Oh madonna Mi sa che ho perso Forse 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 Mamma mia perché Perché vi dovete assembrare tutti così Non vi capisco Non vi capisco ragazzi Non vi capisco Non vi capisco Perché si devono tutti assembrare così Oddio non ce l'ho fatta Eh vabbè ma se vi si assemblano tutti così Però è possibile La roba assurda Ora vedo la categoria Ok Ok Preparati Pariamoci Perché questo sarà davvero Difficile No non mi spingere Bastardo Mamma mia oggi stiamo calando Da cazzo Cristo Dio ma perché dovete spingere Bastardi Sono dei bastardi Ma perché spingono Non capisco qual è il loro problema Perché devono sempre spingere Voglio Ma porco Dio Allora Si abbassa Oh ce l'ho fatta Meno male Meno male ce l'ho fatta Mi dissocio dalla bestemmia detta E mi scuso E mi scuso per la bestemmia Mi scuso Mi scuso fortemente Non bestemmerò mai più Non bestemmerò mai più Non bestemmerò mai più Mi scuso Mi scuso Ok il gioco è Attibile Attibile Meno male Che Dì Dì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Va bene così, ce l'abbiamo fatta. Io voglio vincere. Oh no, questo no, ma non questo. Un gioco della coda, un gioco terribile. Come non gli ho rubato... Ho la coda? Ok, ho la coda? No. Ho la coda? Ok. Ok. Camperi. Ok. 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 Maledetto. Maledetti, maledetti. Maledetto. Ok. 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 Gioca nervoso Ma perché devo sempre morire A causa di questi giochi Non capisco Non capisco Sono questi giochi orribili Sono questi gioco della coda Che gioco è? Che tazzo gioco è? Non ho parola Sono a livello 10 Livello 10 Non ho parola Con mio prendere controlla Devo tragiardare Devo tragiardare Ok Tutto bene Non so come farò Io lo devo Diavolo Ok No 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 Va bene Vamo 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 Ok Vamo a se la cava Questo Cosa sta facendo Vai corri Dai che ce la fai Dai che ce la fai Dai che ce la fai Corri Bravo Dai che ce la fanno Uh ce l'ha fatta Bene Quello lì è morto Inizio Ok Ok Fattibile 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 Fattibilisimo 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 ecco eccoci 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 perché tecnicamente l'ho spinto io se l'avrà morta con me no 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 perchè mi hai spinto figlio di puttana non ho parole non ho parole no non ho parole lupo di merda non ho parole 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 no no non ci credo io semplicemente non ci credo io semplicemente non ci credo semplicemente non ci credo non è possibile non è possibile non è possibile è un'illusione è un'illusione è un'illusione è un'illusione è un'illusione non è possibile non ha senso 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 è impossibile non ha senso allora io adesso non so a chi rivolgere non so cosa faccio ci ho giocato quattro volte guarda life di fila che io ora faccio su questo gioco ce la posso fare 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 ma porco demonio ma porco demonio ok ok adesso sono veramente sfortunato salta abbassati perfetto bene allora eeeh dai niente ho perso di nuovo sul ruolo del traguardo soprattutto ok tutto per avere la certezza eeeh ok eeeh 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 adesso qui siamo solo io e te ascolta piccione qui non c'è non ci sono altre persone ci sono io te e una live dove ci sono un sacco di persone collegate però per ora siamo solo io e te piccione quindi ascoltami bene se tu vuoi ancora cadere vuoi ancora essere umiliato becco codrillo dalle altre skin vuoi ancora essere umiliato da loro piccione perchè non vuoi quella benedetta corona perchè non la vuoi ottieni quella corona piccione sciocco piccione guarda i tuoi avversari dai piccione ce la puoi fare forza non cadere così forza non cadere così accidenti forza ok potresti farcela piccione anche se qua sono tutti agguerriti cavolo stanno cadendo un po' troppo dai questo round l'abbiamo superato piccione i prossimi saranno ancora più difficili i prossimi saranno ancora più difficili ah ti sei qualificato piccione è abbastanza buono non importa non importa non importa ce la farai piccione dai piccione forza abbattiamo queste sciocchi che ci hanno sfidato dai piccione non puoi deludere in questo survival dobbiamo solo muoverci tra questi è facile muoverci in un periodo del fatto senza farci spingere forza no piccione di merda non ho parole non ho parole non ho Oggi è come ieri, non si vince, mi serve un po' di carta qui. Proviamo. Ok. Ciao Poluca 1996, benvenuto. Oh mio Dio, oh mio Dio, guarda questa sembra, guarda la palla di lardo. Madonna, non si vede un cazzo. Ok, basta. Mamma mia, mamma mia questo gioco è veramente, guarda la palla di lardo, guarda come cade, non ho parole. Io mi sto impegnando, ma qui non si ottengono risultati. Ti prego piccione. Io non so più cosa fare con te. Voglio che tu vinca. Va bene. Benvenuto comunque, come stai Poluca, tutto a posto? Eccolo, guarda, guarda come cade, guarda come cade, guarda come cade, guarda come cade. Ma non ho parole. Adesso spingo qualcuno di sotto. Ecco, chi può te, spingo di sotto. Vai, ti prego piccione. Guarda, guarda come cade, guarda come cade. Dai, non si può vincere così, è veramente un gioco complicato. Si vuoi fare del mio meglio, ma... Oh mio dio. Guarda, cade. Madonna. Come fanno a qualificarsi di gioco. Come essere di... Guarda, 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 c'è qualsiasi cosa accade, così, così, così. anche qua pure qua madonna posso capire in pendenza veramente assurdo gioco assurdo guarda guarda non capire ok sembra che a quanto pare sia più avanti rispetto agli altri ok ok ti prego ok ce l'ho fatto vabbè niente non ho niente non ho niente niente no non so più a questo punto non so più non so più cosa fare a questo punto perché boh vabbè e facciamo finta che questo è un esperimento ok questo è un esperimento nel live è un esperimento facciamo finta che è un esperimento che io stia come cosa quanti ne sono mai qui facciamo finta che questo è un esperimento io sono qui per fare la cavia a questo videogioco e per questo è un esperimento non so perché ho iniziato a fare queste dirette io mi immaginavo tipo un progetto andare in giro famoso perché ho aperto questo card è un dubbio esistenziale in questo mezzo è un dubbio esistenziale perché ho aperto questo card per fare dei video per fare questo gioco per vincere su questo gioco per mostrare al mondo intero che sono capace di vincere questo gioco cosa devo fare qua drive the score for your points dimmi che non sono nel team giallo ok team blue ok vai prendilo subito grande team blue vai team blue sta a 5 dunque può farcela no maledetto ma come non ho preso team blue ma perchè però non ci credo oh e vai grande team blue non so fare niente questo gioco dai ma non salta sto affare ma che dovrei fare ma non salta figa grande team ma dai ma non mi salta dentro ma perchè l'unica volta che si vabbè che ladro fermo fermo ma stai stiamo perdendo si ma perchè capito sempre dei team più scarsi ogni volta sempre i team più scarsi di tutti 26 vabbè mi avevamo perso si vabbè dai che palle dai 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 team blue si vabbè dai 29 44 vabbè dai basta ci rinuncio guardalo ci hanno le scarpe coi trampoli niente ormai finita è ormai finita vabbè ha eliminato questi giochi di squadra questi giochi di squadra quanto li odio questi giochi di squadra quanto li odio questi giochi fatti così a squadra quanto li odio questi giochi fatti così a squadra noi Libishow, Libishow, tra poco faccio Libishow eh tra poco io faccio Libishow, no tra poco io faccio Libishow, tra poco faccio Libishow, assurdo ok non ci sono qualificati Ok, no, oh no questo gioco lo disprezzo tantissimo Questo gioco Ovviamente te mi hai messo con che team? Non l'avrei mai detto, team cialo, logico Vuol dire 17 Cioè siamo contaminati in così tanti No, come l'hai fatto senza neanche toccarmi? Ma come fa questo? Lì neanche mi ha toccato Ok 4 lo sono a 1 3 Dai ma perché fa così schifo il team quando... Ecco, li avevo anche visti Ci siamo qualificati, è un miracolo Wow, è un miracolo questo gioco qualificarsi Ciao tutti i altri Ma è un miracolo Ok, jump climb Ok Oh, buongiorno a tutti Oh, buongiorno a tutti Oh, buongiorno a tutti Forse Aggiusti Dato che ho messo sotto il commento Partito Aiuto, 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 aiuto Porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio Qualificato? Non ci credo No Aspetta di sperarmi Come ho fatto a qualificarmi? Ho bestemmiato inutilmente Mi sono qualificato Ho detto una bestemmia inutile Credevo di aver perso No, non ci credo Che culo Mi sono qualificato Mi scusa Gesù Mi dispiace D'aver bestemmiato Ti chiedo scusa Oddio, era un finale Com'è? È tutto così confuso Ti prego, perdonami Non volevo bestemmiarti stavolta Lo giuro Ho detto una cazzata Non lo farò mai più Ci proverò Cavolo, era un finale Cavolo Cavolo, cavolo Devo saltare qua in quei pochi Ecco, ovviamente Ok Pronto, ovviamente No, no Porco Tue Cadere così tanto no però Dai Non è possibile cadere così tanto Ma perché cado così tanto? Si vabbè figa 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 No dai Cadere così tanto è veramente assurdo No perché? Io davvero non capisco Ok Però sono caduti molti Uno col batticuore in questo momento No, 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 no Ti prego Perché? 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 Non capisco perché il mondo è così cattivo No, perché? No perché no perché? Non è possibile È logico che la gente però finisce per drogarsi Cioè Uno finisce in fare mutazioni Cioè è logico Se creano questi giochi È logico È logico Che le persone diventano malvagie Se create queste cose qua Cioè è logico Non c'è bisogno di chiederle È logico che uno diventa malvagio Cioè È logico che poi uno impazzisce Diventa malvagio Se qualcuno si mette l'impegno Per creare la fine No, è logico No, è logico Qui veramente siamo al capolinea Qua siamo al capolinea Non so più cosa fare Non so più cosa fare Raggiungo l'ora E poi io levo le tende Perché veramente Qui stiamo raggiungendo il capolinea Io che sono comunque Il conduttore di questo show E vengo E vengo comunque dal team di Rapallo 2 Che è un team Affiantatissimo di persone Che Contendenti Che mi Sfiatano ogni giorno Mi dicono Devi lavorare di più ore Ma io no Io dico Prendo il minimo sindacale Cioè È assurdo Che il team di Rapallo 2 Mi tratti In questa maniera Veramente Assurdo Io devo Devo vincere a questo gioco Mi hanno detto Vinci Ma cosa vuoi del team di Rapallo 2 Ehi La catena di ristoranti Rapallo 2 Importantissima catena di ristoranti Edifici Storici Tutto Qua dicono Devi vincere a questo gioco Io non riesco Non riesco il team di Rapallo 2 Devo provarci Sennò mi licenzio E mandare un altro A mio posto Mandare un altro Conduttore A mio posto E' un altro gioco Ero Ero A mio posto Ero Non riesco a farlo A mio posto Ero A mio posto A mio posto A mio posto povero dinosauro, mi dispiace molto, povero piccolo dinosauro, spero che il cielo avrà pietà di te, piccolo dinosauro. 38 qualificati, ok, io non riesco a fare quello di esacoli, non riesco a fare quello di esacoli. Troppo, troppo difficile quello di esacoli, ora metto in gioco di questo qui che cado sempre, la fine, la fine. Alla fine è solo un gioco, proprio tutto, non bisogna arrabbiarsi. E ho giocato una di queste partite, secondo me. Due. Porca miseria, Livisho, 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 ti prego, Livisho. Perfetto. Due. Vedi. 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 non capisco qualcosa cosa ha sbagliato qualcosa dai 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 porco due sta pala e basta con sta pala mamma mia sta pala voglio stare attento non è basta non credibile no 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 però però no ma perchè ma perchè ma perchè tanta cattiveria non 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 ho visto neanche il gioco che gioco è non 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 che mi dava, e che per il resto devo anche andarmi bene, oh mio dio, vai, è una andata e mancano altre tre, o quattro. E' impossibile la corona, è troppo difficile la corona, devi essere troppo pronto, io non sono così pro, io sono solo un normale giocatore, sono un pro, vuoi diventare un pro, è difficile, vuoi diventare troppo difficile, troppo difficile, non ho questo talento in questo gioco. Sì, 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 sì. No, 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 va, rialzati. Ora ho capito come funziona il gioco. Ora ho capito come funziona il gioco, non ho capito come funziona il gioco, non ho capito come funziona il gioco. No, no, no. Grazie a tutti Ok Secondo me quella non ce l'ha fatta Non ce l'ha fatta Non ce l'ha fatta Non ce l'a fatta Voglio stare Ok. No. Oh. Oh. Man. Someone must indeed just set. di nuovo voll bullo ok è un po' difficile è un po' difficile è un po' difficile ok è un po' difficile oddio ho fatto quasi goal si ho fatto goal è un po' difficile ce l'ho fatta anche qui e adesso rimane l'ultimo round penso notto ma è troppo poco per gli esagoni in otto no è troppo poco quindi metterà l'anguria e vede l'anguria mette no no mette gli esagoni ma siamo in otto dai che c'è un po' difficile No. Oh mio Dio, oh Dio. Oh no, no. Basta, ce l'ho quasi. Non ho neanche più voglia di arrabbiarmi ormai. 4 su 7. Non ci credo, ci credo. Basta, ormai questa è l'ultima. Non ci credo, ci credo. Non ci credo, ci credo. Non ci credo, ci credo. Si, non ci credo. Oh mio Dio. non ho imparato niente dagli sbagli sto rifacendo gli stessi errori oh mio dio oh madonna addirittura a sto punto spediscimi sullo spazio fai prima fai prima a spedirmi nello spazio non vedo che che cosa succede non ho già capito vabbè vaffanculo si vabbè dai poi qualcos'altro dai si vabbè vaffanculo 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 che stanno là apposta che pezzi di cacca vaffanculo 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 basta non voglio stare neanche ma basta basta grazie mille a tutti a nessuno in realtà però grazie mille a tutti alla prossima live grazie di supportare il mio canale grazie mille a tutti grazie mille a tutti grazie mille a tutti grazie mille a tutti grazie mille a tutti